È una valutazione che ho chiesto agli uffici di fare perché noi già abbiamo da gestire le nostre questioni e ridurre al massimo i disagi per i cittadini. Come ha detto anche l'assessore Giorgetti che tra l'altro oggi sarà presente in Vialderotti dove apriremo la strada e chiuderemo con anticipo il cantiere, bisogna che tutti facciano la propria parte. Telecom non ci aveva informato di questo, a quanto ci risulta, ci è stato detto dagli uffici, dai tecnici e siamo stati noi ad accorgerci della presenza dei cavi. Non mi pare il massimo, del resto c'è anche una convenzione tra il Comune e l'azienda. Noi chiediamo semplicemente che i patti si rispettino, nell'interesse dei fiorentini, non perché dobbiamo far vedere chi è più bravo o chi è meno bravo. Stiamo lavorando tutti per la città e chiediamo a tutti di fare la propria parte.